Cinque giorni di trasloco per spostare il consultorio familiare integrato in via Alberto da Giussano. La nuova sede, inaugurata lo scorso 7 giugno, è frutto di una virtuosa collaborazione tra pubblico e privato a seguito della realizzazione di un piano integrato di intervento che ha visto la riqualificazione dell'area privata di via Machiavelli. Oltre alla realizzazione di nuovi edifici residenziali, il piano integrato di intervento ha previsto anche il recupero edilizio del piano terra del centro polifunzionale di via Giussano che ospitava già al primo piano servizi per l'infanzia. La nuova collocazione del consultorio, che è da sempre una risorsa importante per il quartiere, sottolinea il sindaco Siria Trezzi, oltre a mettere a disposizione spazi più ampi e comodi, consente di mettere in rete più servizi per le famiglie.